WAPI NEMICO IN BOLO! WAPI NEMICO IN BOLO! ARRIBA IL GAS! WAPI NEMICO IN BOLO! ARRIBA IL GAS! Ne restano dieci, continua così. Gas in arrivo, spostamento della zona sicura. WAPI nemico in volo, gas in arrivo, 5 rimasti. No, no, no. Gas in arrivo, spostamento della zona sicura. Gas in arrivo. Gas in arrivo. Gas in arrivo. Gas in arrivo. Spostamento della zona sicura riposizionata. Avete del gas in arrivo. Missione computer. Versace eliminati. Musica. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.